Allora, diciamo che questa pandemia ha scoperchiato il famoso vado di Pandora, vale a dire ha messo in luce proprio tutti i disastri che sono stati combinati negli ultimi anni da una certa classe politica con i tagli alla sanità. La cattiva informazione ha generato quello che, poi il tema del libro, ha generato il caos perché comunque ha creato un terrorismo senza motivo, perché questo non vuol dire che negare la pandemia o negare quello che è avvenuto ci mancherebbe, massimo rispetto per chi ha perso la vita e massimo rispetto per chi ha duramente lavorato per combattere questa pandemia. Ma quello che si vede oggi e che si è vissuto in questi due anni è proprio anche a livello sociologico, ritorno a dire psicologico, è proprio il risultato di un terrorismo che è stato generato appunto da una stampa che ha cavalcato più l'onda della paura che l'onda dell'informazione. Ha giocato un ruolo fondamentale anche i social in tutto questo. Allora, i social sono diventati un po' oggigiorno quasi un'agenzia stampa, tant'è vero che il mondo del giornalismo molto spesso prende informazioni proprio dai social, io dico dal giornalista in modo sbagliato perché i social sono comunque aperti a chiunque voglia dire la sua e non è detto che quello che dice sia poi la verità. Quindi sul discorso vaccini, infatti ha fatto bene a puntualizzarlo, anche qui è stato cavalcato un'onda di paura, di terrorismo che certamente ha provocato più fatica, ha fatto fare più fatica anche alla classe medica a consigliare di farli. Poi alla fine abbiamo visto che le risposte ci sono state perché poi la gente pensa, ragiona e agisce di conseguenza per preservare la propria vita. Però è vero che i social, anche quelli, hanno cavalcato con dei gruppi organizzati che tuttora, chiamati Novax, Novaccini, no qualsiasi cosa perché tanto c'è l'onda del momento da cavalcare, provocano comunque confusione. Il cittadino non ha bisogno di confusione, il cittadino ha bisogno di certezze.